La fiammata dei prezzi di carburanti degli ultimi giorni, dopo che sono stati eliminati gli sconti, crea grande preoccupazione. Un aumento che si riverbera su famiglie e imprese. In particolare fa discutere il prezzo dei carburanti ad Isola del Giglio, dove il sindaco Sergio Ortelli ha denunciato che il gasolio è quasi a 2,42 euro al litro e la benzina poco sotto i 2,38, un sovrappiù di circa 60 centesimi rispetto alla terraferma. Il caro carburante, sostiene il primo cittadino, è uno scandalo sociale che rende ancora una volta le isole minori più penalizzate rispetto ai comuni dell'entroterra, violando così il principio di continuità ed equità sociale. Sono anni che il costo del carburante è sopra i due euro, costringendo i cittadini a moderare l'uso dell'auto. Chi vive nelle isole non ha alternative e poi è una vergogna che i prezzi del self-service siano uguali al servito. Quanto devono pagare gli abitanti di una piccola isola per non farla morire, decidendo di continuare a viverla? Di contro, Grosseto città è una sorta di isola felice per quanto riguarda il prezzo di benzina e gasolio che sembrano rimanere sotto controllo rispetto a tutto il resto della Toscana. Qui un litro di benzina costa poco più di 1,68 euro al litro, mentre 1,78 un litro di gasolio. Valori mediche si ritrovano un po' in tutti i distributori della città ma in nessun'altra parte della provincia. Non solo i prezzi di Grosseto sono più bassi mediamente di 15 o anche 20 centesimi rispetto a quelli riscontrati a Follonica o a Orbetello. Questa differenza di prezzo si deve alla politica commerciale delle pompe bianche che hanno prodotto l'effetto di calmerare i prezzi. In particolare sono i distributori Conad e Enercop a generare questo effetto a ribasso. Insomma, l'ultima provincia della Toscana si dimostra essere anche l'ultima per i prezzi dei carburanti, per la gioia degli automobilisti.